in un'unica porta, vediamo qui, colpo di testa, go! Andiamo Roger! Andiamo così finalmente, una maledizione, dai! E' su, eh! L'abbiamo messa dentro, e che cavolo, se la merita pure! Pareggio dei Bagnes, mancano 20 minuti, calma adesso, calma, calma, calma! Innesima azione, qui stacca bene! Palo! Hai preso un altro palo! Altro palo interno! Palo e palo, e gol dall'altra parte! Bravissimo, i Bagnes, stacca benissimo, la palla... Guarda avere tu, hai detto finalmente è entrata, dai! Mamma mia, oh! La voglia di tirare, perché da lì è difficile pure per uno specialista, col destro! Quindi lasciamo perdere! Guarda che si accedita, eh! Ha caricato proprio il tiro da... Vabbè! Vediamo, dai, vediamo che succede! Non so se hai modo, secondo me c'hai modo di grossare, vediamo qua che fa Pellegrini, il tiro! Goal! 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 Ma che cosa è il giro? Mi metto in ginocchio! Mi metto in ginocchio e ti chiedo scusa! Mi metto in ginocchio e ti chiedo scusa! Mi metto in ginocchio e ti chiedo scusa! Perché col destro da posizione impossibile hai fatto il gol de Maradona! Mamma mia! Di Gianfranco Zola, visto che siamo in Sardegna, hai fatto un gol alla Gianfranco Zola! Che gol! L'hai messo all'incrocio, Lorenzo! Mi riarzo! Che gol! Ti chiedo scusa! Impazzito Morigno! Impazzito Morigno! Che gol che hai fatto, Lorenzo! Che gol che hai fatto, Lorenzo! Tutti eravamo lì pronti a vedere il cross! Che meraviglioso gol! Mamma mia! Che punizione! L'ha fintato! Che punizione! Che punizione! Mamma mia!